Yugi a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con un nuovo episodio del podcast questa volta in collaborazione con nicolas e ovviamente conoscete già grazie alle altre reaction al nostro maestro antoshow nella puntata di oggi andremo a parlare di yugio e lavoro nello specifico dell'acquisto e la rivendita di carte singole visto che entrambi facciamo questo lavoro da più di due anni e quindi mi andava di condividere con voi quello che abbiamo imparato detto questo andiamo alle presentazioni ciao ragazzi io mi chiamo nicola scorvatta faccio il venditore come il signor cappello di paia quasi youtube le presentazioni sono state banche abbastanza corte pensavo di lungarsi un pochino di più però detto questo partiamo dalla prima domanda cioè la più importante come abbiamo iniziato agli albori iniziato quando avevo circa 12 anni volevo comprarmi la playstation iniziato a vendere le figurine al mare ma non proprio al mare bambini al mare cosa facevo io praticamente avevo scoperto che le carte avevano un valore però non era conoscenza di un valore esatto perché io non avevo il telefonino non conoscevo car market però diciamo che sapevo innanzitutto capire se una carta era più rara di un'altra cosa facevo io andavo in giro per le spiagge facevo gli scambi proficui andavo ad una bancarella e vendevo le carte per soldi il punto qual è che io ad agosto ho raggiunto la cifra per comprarmi la playstation 4 ora cosa c'è che non va che io con le carte lì l'ho venduta a quattro volte meno il valore quindi pensa quante carte ho venduto ma è iniziato così il business delle carte poi diciamo che ho iniziato a collaborare con questa bancarella dove vendevano carte e per diversi anni ho fatto volontariamente il dipendente grazie è volontariamente fatto ho imparato il mestiere della vendita delle carte ho imparato il settore mi è piaciuto molto è stata un'esperienza molto formativa per me dopo di che cosa è successo quinto superiore dovevo fare l'esame pandemia pandemia che cazzo fai trovo le mie vecchie carte diciamo che tra essendoci il quinto superiore lo sport tutto quanto erano un bel po che stavano lì a prendere polvere e il piano qual era il piano era quello di vendere le carte che avevo per fare qualche soldo cosa succede succede che mio cugino capita sotto casa mia mi fa o nico ho trovato le carte di yuki te le ricordi sì non sapeva che farci te le compro e io le comprate dopo di che mi porta il suo amico che mi fa oh so che tu compri le carte di yuki te le vendo e io le ho comprate passa parola passa parola inizio a comprare tutte le carte qua in zona da me anche cosa succede c'è un'altra cosa mentre inizio a comprare qualche carta con qualche soldo che aveva a casa niente di che lotti molto poco impegnativi che succede che praticamente come che io dovevo finire l'anno scolastico e mi rendo conto che uscito dal quinto superiore non avrei saputo fare nulla della vita ovvero non sapevo come sapere un mutuo come spagano le bollette cose che insomma secondo me scuola dovrebbero insegnarti ma non è questo il nostro discorso dopo divaghiamo il discorso è che io mi informo su come funziona la vita e tra questa cosa su come si pagano i bollettini le cose non avevo una post pay non avevo un conto per comprare online non avevo niente insomma vado in posta faccio lo speed cosa che è incredibile faccio prendo appuntamento e vado a chiedere un po come funzionava il tutto io cosa avevo da parte di soldi a 18 anni avevo i soldi che ti mettono i cintori nel libretto la carta libretto che ti fanno da minorenne per mettere i tuoi risparmi dentro ebbene cosa scopro scopro che comunque sia arrivato a 18 anni insomma qualche soldino da parte i miei me l'avevano messo e cosa scopro scopro che non solo le poste non mi davano nessun interesse per questi soldi che avevano nel loro tasche bensì mi prendevano ogni anno una percentuale questa cosa mi fece scapucciare di testa perché non avevo niente di finanziamento non sapevo zero di tutti questi argomenti qua però mi diede molto fastidio concettualmente perché dico caspita però a logica dovrei avere un interesse per questa cosa qui e invece no anzi e cosa scopro scopro che più soldi hai più percentuali ti prendono e io per tipo pochi euro avevo la percentuale alta quindi inizialmente la tipa mi fa vabbè ritira la percentuale cioè ritira qualche soldo così che arrivi sotto questa soglia e ti prende la percentuale e io cosa faccio dico no non ci sto ero 18 anni ci stai che sei un po' una testa di cazzo e non volevo dare questa percentuale a che cosa dico vabbè voglio ritirare tutto tutto mi fa come non è possibile sono soldi miei no non puoi e come non posso no ma scusa se mi servono no non è possibile ritirare tutto insieme e scusa quanto posso ritirare puoi ritirare massimo 500 euro al giorno io pazzisco perché come cazzo è possibile vabbè comunque sia scendo a compromessi e inizio ogni giorno ogni giorno a ritirarsi 500 euro se non che poi diciamo che contro un vecchio amico che adesso fa l'avvocato che poi con lui anche ho iniziato la prima collaborazione di carte è stata con lui lui praticamente cosa mi fa a figa questa idea che ha avuto di ritirare i tuoi soldi geniale e io lo so peccato che è illegale ma come illegale sì è illegale perché praticamente scopro che tu in italia non puoi avere più di tot soldi fisici perché sono automaticamente nero devi essere in qualche conto per qualche motivo e questa cosa non la sapevo chi cazzo te la dice come fai a saperlo cioè non lo puoi sapere e mi ritrovo che ho sti soldi che non potevo avere allora cosa faccio dico come faccio ad avere questi soldi senza metterli in un conto perché io che ne sapevo che potevi metterli in un deposito come generale italia cose varie non lo sapevo che cazzo ne sei 18 anni cosa faccio dico ma io in cosa sono bravo a investire io crypto non le conoscevo altre cose strane non mi sentivo di farle dico qual è l'unico argomento di cui mi sento competente le carte che avevo una certa competenza visto il mio lavoro passato inizio a spendere tutti i soldi che avevo ho letteralmente speso tutti i miei soldi in carte ovvio che dopo c'è stato un certo scomento e parei discordanti sulla mia scelta però è normale ad oggi ho tante tante carte ho un lavoro che mi piace è la mia passione con cui guadagno qualcosina e direi che sono più che contento però diciamo che c'è stato il matto di mezzo perché chi lo farebbe nessuno questo è come ha iniziato diciamo a farlo più seriamente il mio lavoro bene io invece ho iniziato a fare questo lavoro se non sbaglio un paio di anni fa quando è uscito blazing vortex e poi lo structure deck barriera di ghiaccio diciamo che è stata un po casuale la scelta perché ovviamente già vendevo tramite una pagina instagram che avevo in più poi quando sono arrivati sono arrivate le collaborazioni quella di konami e quella di magic corner ho deciso di aprire un profilo mio e vendere ovviamente tutte le carte extra che avevo praticamente tutte perché in quel momento poi stavo giocando anche relativamente poco successivamente però diciamo che decido di fare la cosa molto più seriamente e buttare molti dei soldi che avevo attualmente la cifra è a cinque cifre fortuna a casa non lo sanno e non vedranno questo video perché è troppo lungo ebbene così io come anche nicolas ci siamo ritrovati con una caterva di carta infinita di qualsiasi lingua condizione e edizione adesso andiamo alle domande più importanti perché della nostra storia frega un cazzo a nessuno parliamo un attimo delle piattaforme per vendere perché ovviamente non esiste solo car market ne esistono varie e bisogna capire effettivamente dove conviene vendere perché le opzioni sono tante abbiamo car trade car market telegram whatsapp instagram i gruppi facebook che io odio e basta queste qui nel pratico nico dov'è che vendi vendere nel pratico vabbè mentre la principale è da da car market però tu come sai collaboro con con la fumetteria qua qua in zona da me quindi anche lì il negozio effettivamente si vende qualcosina io inizialmente come te ho vazzicato anche su marketplace di facebook soprattutto in quarantena ho acquistato molte carte su internet è molto utile poi ognuno di queste piattaforme ha i suoi pro e i suoi contro diciamo che secondo me se uno ha materiale da collezione il marketplace di facebook è meglio per certi aspetti perché alla fine chi vuole carte da collezione magari anche qualche nostalgico che non conosce magari il market e trova su facebook così tante volte capita e via lo schizzo cioè io visto che su marketplace fa molto il collezionismo car trader pure è un'ottima piattaforma io un po' di anni fa ho iniziato a essere in vogue a car trader mi ero affacciato poi ero troppo abitato col market avevo appena imparato a usarlo perché rinfognarsi nuovo imparare qualcosa di nuovo utilizziamo i mezzi che abbiamo acquisito poi vabbè si instagram whatsapp sono i social più utilizzati da tutti quindi se uno vuole fare qualche contatto diciamo più più caldo persone più che con cui hanno un certo rapporto è valido ovviamente qualche cliente si è federizzato uno può tranquillamente contattarlo da lì fa fare vendita lì allora guarda io ti dico avendole testate più o meno tutte l'unica più affidabile secondo me rimane comunque car market perché è pulita e induettiva diciamo che car trade non l'ho utilizzato direttamente l'ha utilizzato vergence un amico che collabora con magic corner e che anche lui collabora con car trade e mi ha riferito che diciamo le tasse sono più alte ci sono tanti problemi nel mezzo e quindi effettivamente vendere sulla piattaforma non è la cosa migliore poi successivamente ragazzi uscirà un video sul suo canale andatevelo a vedere che vi spiegherà tutto mentre per quanto riguarda tutte le altre piattaforme che non sono real di persone effettive che ti vengono a casa quindi gruppi telegram gruppi facebook io li odio perché trovi sempre quel figlio di puttana sempre che ti deve rompere i coglioni ti dice ma la carta non è così ma questa carta come minimo market costa 5 centesimi di meno e quindi li prendi e ti vuoi tagliare le vene perché ti chiedono 6843 foto tu gliele mandi e ti dicono ok grazie ci penso e poi ovviamente questa è gente che non tornerà mai mentre per quanto riguarda piattaforme come ebay e vinted e soprattutto vinted mi hanno detto che c'è un enorme vendita di carte soprattutto la merda lì la gente la compra stufo non l'ho ancora mai provata però almeno per altri giochi come one piece se ne vende tanta tanta guarda io ti dico vinted vinted l'ho approvata e diciamo che ho abbandonato subito ho visto delle cose ah io vabbè questo è un canale di yugioh però io ho anche molte carte di pokemon quello pure io vinted mi contatta questo ragazzo su vinted dicendomi oh ciao io sono un ragazzo che abita nella sua provincia ho saputo che tu c'hai molte carte di pokemon e mi fa io cerco le carte foil del set base faccio eh ok e vabbè faccio sì sì certamente ce l'ho e faccio eh sì sì ok perfetto però guarda non fare come molti che mi sparano 5 euro a carta perché non le compro lo scrincio sul telefono vecchio porca miseria appena recupero il file te lo mando ok a parte che le carte del set base come minimo rovinate stanno a di un euro le common sì vabbè ma capisci che allora ogni ti dicevo ogni piattaforma è sul pro e sul contro eh ci sono io divido i clienti in tre categorie quelli che effettivamente sanno come funziona il market quelli che non sanno come funziona il market e sta a te istruirli e spiegare che cosa è quelli che sono i peggiori quelli che pensano come funziona ma non capiscono un cazzo quelli sono i peggiori perché è veramente impossibile trattarci è qualcosa di tutto tu puoi metterci tutta la diplomazia del mondo la calma ma c'è poco da fare c'è veramente poco da fare ovunque tu vada in qualunque piattaforma troverai uno di queste tipologie di persona queste tre sono le macro categorie però ecco di base noi facciamo lavoriamo in un settore dove sei a contatto col pubblico quindi è normale essere venditore in qualunque settore tu vai a operare è ovvio che sia sarà così troverai un sacco di magagni e dovrai ingoiare molti rospi ma il nostro lavoro ci piace siamo contenti così di lei no ma il fatto il bello di car market è che la carta è quella il prezzo è quello la vuoi compri non ti piace il prezzo non la prendere rimane lì mentre sai quando carichi le altre robe su altre piattaforme la gente ti scrive ti dice ma possiamo così no lì paghi e si spedisce esatto io all'inizio magari mi capitava quando avevo pochissime vendite qualcuno che ti dice oh senti ma il prezzo è trattabile capita molto poco e poi vabbè se capita basta non rispondere perché uno non può perdere tempo cioè se tu sei una persona che lavora in maniera oggettivamente onesta che tu fai i prezzi come vanno fatti è giusto che tu aspetti il cliente giusto non devi stare a regalare il materiale poi sta scelto nella persona poi capita spesso che magari uno va da un venditore come noi che ha tantissimo materiale magari paga la comune 30 centesimi 50 centesimi è normale che poi se uno è abituato a fare scambi con altri giocatori tra giocatori ci si fa i minimi non è che si sta a vedere tanto il perro nell'uovo magari noi invece su una carta da 10 euro magari la carichiamo a 12 è uno per cui d'oro storce il naso ma non conta avere tanto materiale come il nostro non conta avere la carta singola che ti serve si si no su questo sono completamente d'accordo c'è tutto il discorso sulle spedizioni perché tu su car market devi trovare un venditore che abbia tutto il materiale che ti serve oppure ti paghi più spedizioni però perché per ogni carta che ti serve per pagarla meno il primo prezzo devi pagare una spedizione per carta quindi poi tanto vale che fai tutta una spedizione unica sia per sicurezza sia per comodità e più o meno spendere uguale perché tanto se vai a pagare un euro in più a carta ma poi ne spendi tre di spedizione a carta è ovvio che non vale la candela al gioco no ma guarda considera io molto spesso mando le foto solamente su carte che sono da collezione di un certo livello perché se mi chiedi una carta che nm sta a 100 euro e ovviamente non è una carta competitiva che si gioca attualmente te la giro perché ovviamente puoi avere tutti i dubbi del caso però in altro contesto no poi ovvio quando mi è capitato che un tipo mi comprasse una rosa nera ultimate in inglese in prima edizione no era americana io l'avevo caricata a 400 lui mi chiese 350 considerando che era una carta che era tanto che era caricata tante persone hanno chiesto le foto e nessuno aveva mai comprato diciamo con cifre del genere puoi venire incontro all'acquirente perché comunque si tratta di una spesa ingente ti fai ovviamente i tuoi conti su quanto hai pagato quella carta e tutto il resto e se vedi che ne vale la pena lo fai poi ovvio su una carta competitiva che sta a 20 euro di minimo se vende a 20 se mi dicono 15 te dico de no te dico me la tengo sul market tempo due giorni e l'ho piazzata mi è capitato un tipo volevo raccontare queste cose più avanti quando parleremo delle richieste assurde di car market ma tipo mi fa male lo stomaco se ci penso un tipo mi scrisse mi servirebbe cartesia e non mi ricordo che carta era tipo branded red se mi fai 40 entrambe e te le prendo cartesia stava di minimo 45 branded red stava altri 7 io ho detto guarda mi spiace no non è trattabile eh ma come? rifiuti per 40 euro? ho detto sì tempo boh un giorno mi hanno comprato entrambe le cartesia e tipo 3 branded red quindi capite anche voi che per determinare carte non esiste andare incontro un'altra cosa importante che penso pochi considerano è che io do quello che vedo il 90% di chi vende carte non è la loro entrata principale o perlomeno unica entrata cioè tutti coloro che vendono carte in realtà hanno un'altra fonte di reddito perché poi è normale che se uno ha solo carte e fa solo questo è normale che possa magari tendere a svendere qualcosa per arrivare a fine mese questo qui non è un lavoro dove ci arrivi a fine mese è un qualcosa che porti avanti nel tempo e lo fai dipende come lo porti avanti cioè magari hai un negozio allora tu hai il negozio in più vendi carte campi del negozio del lavoro della tua fumetteria non campi della vendita singola del materiale di carte pure anche io te facciamo altro oltre questo allora per cui il discorso sarebbe diverso capito cioè non è che uno per i 5 euro si vende la madre cioè funziona così guarda ti dico non sono d'accordo con questo perché conosco tanti ragazzi che vendono carte sul market quello è il loro lavoro e ci arrivano tranquillamente a fine mese considera che quando superi tanto i 30.000 euro l'anno di vendita ti dicevo che non è che uno non ci arriva a fine mese capito questo ti voglio dire non è un tipo di lavoro tipo ad esempio l'operaio che c'ha quei 1000 euro ci dovrà a fine mese capito non è quel tipo di lavoro lì per cui tu accetti invece che 50 euro in questo caso 40 ah ok diciamo che un tipo di lavoro differente cambia dei mesi in mese non è che uno non ci arriva è capito cioè non è un qualcosa che tu se tu fai un lavoro del genere devi anche investire spesso quindi hai già una base che ti para il culo diciamo ok sì per cui non è che tu per 10 euro svendi la tua merce capito un'altra cosa che molte persone non considerano quasi nessuno prima di fare il venditore anche io non la consideravo quelli che danno che ne so 40 euro vabbè grazie a me adesso ci campi 6 anni con 40 euro magari non sanno che la carta l'hai pagata 30 quindi non è che tu guadagni 40 euro un conto è l'incasso che sono 40 euro il guadagno è quello che c'è tra l'incasso e quello che tu hai speso per la merce il materiale e nel caso di molte aziende italiane c'è anche l'iva da calcolarci cose di questo tipo per cui è completamente diverso non è che funziona così no ma senza contare poi però è una cosa scontata questa qui per molti sarà scontata quello che ho detto ma non lo è per tutti per molti potrebbe non essere una cosa banale senza contare poi che comunque noi paghiamo delle commissioni a car market perché ovviamente car market non lavora gratis perché esempio il 5% di commissione se lo prende il sito perché noi stiamo utilizzando la sua piattaforma e mi sembra normale eh certo però metti anche eh sì ma è giusto è giusto il 5% è una sommonessa che può sembrare poco però ogni 1000 euro si fa 50 euro guarda ti dico car trader se ne prende se non sbaglio il 7 se non il 10 quindi vabbè quello è troppo ma il 5 è onesto il 5 è onesto anche perché il 5 è proprio corretto perché è quella percentuale dove c'hai un guadagno però comunque sia non vai a lucrare sul lavoro di una persona perché sì car market c'è tanto lavoro dietro ma ormai è un impero che si è costruito non puoi andare a togliere troppo guadagno dal lavoro di una persona che ripeto già ha dei costi comunque sia avere un posto dove tenere tutto il materiale il tempo che la gente pensa che uno gli vendi le carte che ne so uno ha un 100 euro di carte viene da te te le vuole vendere per forza tu gliene dai 50 per non sentirlo più lui pensa ah beh questo ha fatto già 50 euro non funziona così tu chissà quando le vendi devi perderci del tempo devi avere il posto dove tenerle devi caricarle sul market oppure devi saperla a chi piazzare c'è un lavoro dietro c'è un lavoro dietro che molte persone non vedono cioè tipo Federico prima ha visto camera mia immagino come sarà la sua ci sono tante ore di stare dietro a sistemare il materiale metterlo bene immagazzinarlo in un certo modo per cui sono tutte cose diciamo fuori campo che non si vedono ma è un lavoro che c'è questo è il fatto perché quando la gente ti chiede tre carte sì io per prendere quelle tre carte common che ci sono smistate devo tirare giù tutti gli scatoloni capi qual è il set per tre comuni mi parte almeno può essere un quarto d'ora mezz'ora e poi ovviamente devo risistema tutto quindi tipo a volte mi è capitato devi guarda non c'ho tempo attualmente di poterlo fare perché ovviamente per tre carte guadagnare tipo un euro e cinquanta in determinati periodi della mia vita tipo questo è abbastanza impossibile da realizzare poi ovvio se me le comprano sul market lì lo faccio per forza ovviamente che adesso sto parlando di fuori market esatto una cosa che poi tra l'altro dico sempre io solitamente invito le persone e lo fanno se a meno che la comunetta non ce l'ho da parte se ad esempio uno gli servono 20 comuni 20 comuni se mi compri anche la carta che costa un pochettino 20 comuni te le cerco però perché di base alla base dell'acquisto c'è una carta ti dà un'entrata già quella carta lì e poi intorno il resto del mazzo per esempio no ma ti dico io le comuni le cerco solo se ce le ho già smistate e caricate se non sono già così ma sono negli scatoloni la gente viene qua a casa se le cerca poi ovviamente gli faccio lo sconto perché se le ha cercate da sole è a posto perché se no io diventerei matto e non avrei tempo di gestire l'altro lavoro youtube che attualmente mi sta svenando e ovviamente l'università capite se io la scorsa notte ho dormito tre ore e attualmente ho il cuore che mi batta a mille sto per morire a quanti caffè sei? niente ma sono sveglio con un polase ah bene in che senso? no no io ieri sera sono tornato tipo a luna mi sono fatto un polase ho lavorato per il lavoro vero fino alle 5 del mattino alle 9 e 3 quarti mi è arrivato un cliente ho venduto le carte a lui poi alle 11 e 3 quarti dovevo stare a Porta dei Canati da una parrucchiera per fare le foto senza aver pranzato senza aver fatto neanche colazione sono stato lì fino alle 4 poi sono tornato a casa morto bene adesso passando oltre perché penso a nessuno freghi della mia salute allora parliamo di come effettivamente spedire le carte perché io potrei aver avuto delle lamentele insensate però vorrei capire anche tu come spedisci perché forse sono io lo stronzo e sbaglio faccio una premessa molto cattiva perché voglio che sia chiaro a tutti quanti per chiunque stia ascoltando questo video e soprattutto immagino che comprino dall'Italia posta 1 e posta 4 posta 4 ragazzi posta 1,50 per due motivi principali non solo perché la lettera non è tracciata ma perché a differenza della busta posta 1 dove è considerato pacco posta 4 è considerato lettera la lettera italiano implica che le lettere quando le spediscono a casa le spediscono nella busta e la lettera è un foglio dentro una busta per cui per le poste italiane è necessario ottenere un certo spessore che sia molto basso che sia quello di un foglio di carta quindi quando tu già metti le carte una sopra l'altra e le ci metti il giornale intorno già in teoria è uno spessore che alle poste non gli piace poi tanto però giustamente te le fanno spedire ora per tutti quelli che mettono il feedback negativo perché non c'è un rinforzo dentro la busta con posta 4 siete da ricovero ragazzi perché se quando uno vi spiega guarda che posta 4 funziona così gli mandi il link di poste italiane e gli fai capire che oggettivamente ha sbagliato e lui piuttosto di dire ah si hai ragione tu perché è oggettivo che sia così gli metti il feedback negativo è ovvio che tu al posto del cuore c'è una pattugnera per citare vabbè è paralese che tu sia un ritardato non è cattiveria però per cui posta 4 è una lettera per cui se vi spediscono senza imballaggio ok sono ritardati ma quando uno ci mette il giornale lo scotch per fare e sta ferme ha fatto il suo lavoro e l'ha fatto anche bene bene questa era la ala non ho nient'altro da raggiungere bene io invece il problema l'ho avuto con la posta 1 perché con le poste 4 faccio le robe belline col top loader la bustina con la carta il pezzettino di carta sopra e per quelle non c'ho problema le posta 1 la gente mi mette il feedback negativo perché a volte mi capita di mettere due carte nella stessa sleeve ovviamente lo faccio perché sia per risparmiare le sleeve ma soprattutto perché allora le carte hanno un maggior supporto e quindi non rischiano di rovinarsi bene ho i feedback negativi per questo motivo feedback ce n'ho uno dei feedback negativi per questo motivo e mi è facile ai coglioni perché questo tipo c'ha avuto anche l'ardire dei dimmi eh cavolo o te compro le carte da 10 euro e te mi metti due carte nella stessa sleeve soprattutto con la carta che costa 10 euro vado a vedere il suo ordine la carta che aveva comprato costava 8 era un liquid gli ho detto guarda non hai comprato la carta a 10 euro eh sì ma 8 si avvicina a 10 ho detto sì però non è 10 e quindi non mi ha più risposto non lo so ogni tanto la gente se ne esce con commenti a caso totalmente inutili cioè le carte te sono arrivate te sono arrivate rovinate no quindi il problema qual è? un conto capisco prendo la busta bianca del posta 4 metto la carta con la sleeve la metto nella busta e spedisco io direi di stopparci perché io poi inizio a raccontare tutte quelle che mi sono capitati tra cui una ieri ancora devo capire no vabbè praticamente l'altro giorno mi scrivo adesso devo magari mi sbaglio io praticamente capita a tutti che magari abbiamo tanti ordini uno si sbaglia si dimentica una carta io solitamente una cosa che faccio sempre prima di mettere le carte nella busta le conto perché car market ti dice il numero di articoli e quindi ti dice il numero di carte che l'acquirente ha comprato io le conto sempre non so te e ho contato queste carte ed erano 17 praticamente questo qui mi fa oh ciao eh volevo dire che manca questa questa e quest'altra la prende mancano 5 common no? la prende che ho spedito quelle che costavano e le common no io sono sicuro al 1000 per 1000 da avergliele spedite io sono sicuro al 100% io ho detto guarda tanto grazie per l'acquisto mi dispiace per il disagio però io sono solito contare esattamente il numero di articoli che metto in busta e ne erano proprio 17 non capisco come sia possibile questa cosa mi fa e guarda non ci sono mi faccio guarda ho controllato e io non le trovo da nessuna parte in casa le carte di coeredizione lì ce l'ho tutte in una scatola e non ci sono e niente lui sta ancora aspettando il rimborso io non so come comportare cioè io lo do piuttosto che avere problemi però adesso quanti erano? 3 euro? 4 euro? non è per i 4 euro perché mi devi scammare 4 euro? guarda non capisco perché mi devi scammare 4 euro? mi è capitato di di sbagliarmi di dimenticare una carta mi è capitato due o tre volte in tre anni pochissime volte mi è capitato senza problemi ho controllato ce l'avevo ho rimborsato subito ma in questo caso qui non so come comportarmi la cosa che è successa ieri boh non so allora non so proprio ti dico io in questi casi per quanto so sicuro di aver c'è ragione se non è roba estremamente rilevante do rimborso e me becco il feedback positivo perché non mi va di litigare non ho voglia della velamentella e mal di testa bene abbiamo capito che comunque abbiamo una vita molto attiva in merito a car market detto questo passiamo al prossimo punto allora come si gestisce una mole infinita di carte non si gestisce ti fai gestire probabilmente diciamo che comunque allora almeno dal mio punto di vista io ho questi scatoloni infiniti che praticamente sono divisi in colonne e ci sono carte divise per ogni set ci sono carte di cross col bisettino con scritto cross e un numerino ovviamente poi ho un database sul tablet che mi permette scrivendo il set di capire in che punto si trova e poi ovviamente quando devo tirare fuori la carta di tirar fuori la carta in breve tempo e questo è il mio metodo poi non so te nico come fai allora io fino a due settimane fa non facevo così io ho le carte divise per colore quindi immagine trappole mostri fusioni sincrono insomma per colore e poi per rarità per quanto riguarda le trappole è facile perché sono divise tutte per rarità quindi prima le comuni poi le rare poi le super le ultra le secret poi eventuali gold star foil rarità particolari sono tutte insieme però per la rarità maggiore funziona così e sono in ordine alfabetico quindi A A B A B A A B C B insomma e così via poi per i mostri è un po' più complesso perché per i mostri soprattutto quelli common che sono tanti 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 le ho divisi in questo modo innanzitutto tutte le carte sono divise anche per lingua quindi tutto quello che ho detto prima era anche per lingua quindi italiano inglese e tedesco quelle francese e spagnole ne ho così poche che sono tutte insieme ammassate per quanto riguarda le comuni per i mostri come divido divido sempre in ordine alfabetico ma con una distinzione ben più chiara ovvero divido prima in tipo quindi bestia drago incantatore e di tutti i mostri una volta messi tutti insieme gli incantatori li ho messi con un ordine ovvero prima in terra perché si parte dalla terra poi vento perché sulla terra c'è il vento poi acqua perché il vento soffre sul mare poi fuoco perché l'acqua spegne il fuoco poi la luce perché il fuoco fa la luce e infine oscurità perché in alto cielo tutti i ragionamenti e li divido appunto per attributo tutti questi mostri sono anche per un ordine alfabetico per cui ad esempio mi serve un che ne so prendiamo carta esempio j in paladino fuori della luce comune da Lodet per cui io vado su guerriero comune vado su guerriero luce vado sulla j e lo trovo diviso in questo modo qui adesso mi sono arreso a questo metodo e sto dividendo tutto per espansioni pensavo fosse più semplice sono due settimane che lo sto facendo sono ancora in alto mare vedremo di finire entro un mese spero non ce la farò mai perché poi ovviamente perché voglio dividere tutto per espansioni perché le ultime espansioni dal 2021 in poi sono tutte divise per espansioni però tutto ciò che dal 2021 in giù no e mi dà fastidio questa cosa perché ovviamente poi esce un set nuovo prima cosa facevo usciva il set nuovo e lo smistavo tutto ma è già per set per cui avere delle carte divise per set l'altra no mi sembrava poco professionale per cui mi sono arreso a questo metodo però ve lo consiglio se non avete troppe carte non avete voglia di dividere per espansione perché è molto molto efficace anzi soprattutto per formare i mazzi e per fare ordini soprattutto dal vivo quando la gente viene da voi se avete se avete vendito e fate un magazzino questo metodo è molto più efficace la divisione che vi ho detto io che utilizzo è molto più comoda soprattutto per le magie trappole che sono tutti in ordine in alfabetico è veramente veramente più comodo invece per espansione no però quando riavere così tanto materiale come me fede ci vuole per forza un qualcosa di più specifico è obbligatorio non a caso tutti i più grandi venditori sul market sono quasi sicuro abbiano diviso per espansione il proprio materiale quasi sicuramente beh però non ne sono troppo sicuro forse qualcuno che usa l'ordine alfabetico mi sembra di averlo visto e parlo di venditori grassi non so se era car game non car game corner LPP però non ne sono sicuro ah sì bene adesso andiamo alla domanda delle domande a quanto si ritirano le carte partiamo da un presupposto diciamo che quando si parla di carte in questo ambito essendo un lavoro si parla anche di soldi e soldi possono essere attribuiti ai cosiddetti affari fare affari cosa vuol dire essere in grado di fare il miglior guadagno nel minor tempo possibile con questo non vuol dire che bisogna scammare le persone o dire falsi prezzi per quelli che non sono però nel momento in cui noi abbiamo davanti una persona che non conosce il market io la prima cosa che faccio è sempre di dire guarda questo sito qua è il sito per cui vende spiegare un po' come funziona il caricamento delle carte la condizione della carta che fa il prezzo dobbighi a mostrare ogni carta quanto vale questa è una cosa che è giusto fare perché nel momento in cui c'è la giusta percentuale la persona ha un guadagno e io venditore ha un guadagno però la percentuale come si decide innanzitutto se una persona viene da me e mi propone del materiale io offro due valute o quella cash o quella buono spesa il buono spesa va dal 70 al 75% di buono spesa dipende che tipo di materiale è invece cash 50% questo perché perché i soldi si fa subito a spenderli ma guadagnarli ci vuole il suo tempo e soprattutto soprattutto non sono io che vengo da te e ti chiedo guarda questa carta qua mi interessa perché la voglio vendere me la vendi ovvio che quella persona lì alla metà del prezzo non te la darà perché sei tu che hai bisogno di un qualcosa e vuoi quel qualcosa però se una persona vuole da te e vuole dei soldi è giusto che tu lo paghi la metà perché comunque sia è il tuo lavoro e soprattutto un'altra cosa che io specifico sempre sicuramente è capitata anche a te fede ritirare a un prezzo e poi comunque venderlo a di più di quanto l'hai ritirato ovvero mi spiego quando noi ritiriamo le carte da una persona soprattutto quando ha poco materiale si guardano i minimi ma perché si guardano i minimi perché quella persona lì essendo un privato con poco materiale il suo valore d'acquisto che ha la carta è più basso rispetto a mano nostra uno prende una carta che di minimi sta a 10 euro ma tu venditore power seller quello che sia la puoi vendere a 15 non è che la carta vale 15 per cui tu gli scambi 2 euro e 50 ragazzo sei che la paghi 5 ok tu stai semplicemente prendendo una carta che vale 10 euro in mano sua e la paghi 5 poi se in mano tua acquisisci un potere d'acquisto maggiore è un tuo guadagno è un tuo diritto di guadagno perché è il tuo lavoro che fa prendere valore la carta è un po' come quella classica cosa che ti dicono le pagine imprenditoriali della bottiglietta d'acqua che costa 50 centesimi in supermercato un euro al bar e 5 euro in aeroporto ovvero che non sei tu che vali poco ma è dove stai che dà il tuo valore il concetto per me è quello lì se la nostra carta ha un potere d'acquisto maggiore e può valere quei 5 euro in più è il nostro lavoro che fa di per sé questo non è tu che perdi il guadagno o qualcuno che ti ruba qualcosa questa cosa qui è di fondamentale importanza poi ovvio dipende che materiale uno ti porta perché se uno ti porta tre structure distrutti di roba scrause è normale che valga poco se uno ti porta un grande lotto da collezione molto serio dì la situazione cambia ok poi dipende tutto anche dal materiale e da essere oggettivi e fare le cose onestamente io per quello che posso dire sono molto contento perché io sono sempre campato di passaparola perché mi sono sempre comportato bene in maniera onesta è campo di passaparola tant'è che Federico in passato mi ha gestito un account Instagram per pubblicizzarmi l'ho chiuso perché non mi serviva cioè era un costo per me inutile visto che faccio fatica a gestire il passaparola figuriamoci cercare nuova clientela ulteriore guarda ti dico quindi se uno fa le cose onestamente si può fare si può fare tutto e si può andare d'accordo con tutti poi troverai sempre quello che se io ti vorrei rompere le scatole lo fa però se sei onesto oggettivo e sai bene quello che dici difficilmente qualcuno ti viene contro allora ti dico io indicativamente ritiro al 60 e ti dico non ci ho mai avuto grossi problemi molto spesso la gente accetta poche volte rifiutano poi se si tratta di robe da meta ovviamente lì so molto più di manica larga nel senso se devo arrivare al 70 anche all'80 mi è capitato perché era un lotto incredibile senza senso e lì si trattavano di carte che io le prendevo e le avevo già piazzate ma quello è tutto un altro discorso mentre mi sono capitati vabbè ti parlo dei lotti generici che arrivano a me ah sì sì parlo dei lotti generici di quelli che arrivano a me che già hai capito cioè lì al 50 perché gli vuoi bene ma ti tiri carte che già possiedi comunque sia come ti ripeto parlo di persone che vengono da me e non sanno cosa farci col materiale non si parla di tu per i tiri materiale meta quello sono d'accordo il giocatore che smette di giocare ok quello si tratta ma in un altro modo perché è un tipo di materiale più appetibile però di base come dici tu dipende chi dà potere ovvero se una persona viene da te ha bisogno di qualcosa se tu vai da qualcuno hai bisogno di qualcosa ovviamente all'inizio quando ho iniziato a fare e investire andavo su marketplace di facebook io offrivo il 70% si pure io ho iniziato così è ovvio è ovvio che tu hai bisogno di quel materiale quindi c'è diciamo al tuo bisogno e sei più disposto a a compiacere la controparte per cui poi le persone vengono nel negozio e mi fanno delle richieste è ovvio perco di fare il mio interesse ma è giusto che sia così perché ormai la mia gavetta che mi amo ce la siamo fatta e a te hai capito ma ti dico l'unica situazione in cui non è che pago di meno però non esiste trattativa so o la roba giapponese perché lì vado proprio sui minimi minimi cerco su ebay i venduti più bassi perché ovviamente so che cioè non saprei neanche come venderli io la roba giapponese coreana l'ho sempre venduta alla metà di quello che sta sul io vado su l'ho sempre venduta a metà non l'ho mai venduta più di metà perché è invendibile è roba invendibile io per esempio ragazza maganiera l'ho smustata io ragazza maganiera l'MFC secret stava a 100 euro l'ho venduta a 40 ma perché non l'avevi è invendibile quella roba lì ma è invendibile quella roba lì ma chi la vende chi la compra a 100 euro ma non so neanche come sei riuscito a piazzare a 40 la voleva da non so quanto lui veramente voleva spendere 200 euro cioè aveva 200 euro io ho detto guarda io ho 200 euro per di più voglio spendere la roba la collezione ho comprato un sacco di roba interessante e io aveva speso 160 euro gli dico guarda 200 euro è tua e l'ha presa se lui la vuole se lui la voleva doveva spendere era 102 euro 102 dollari più 10 di spedizione quindi doveva spendere un pacco adesso ma chi cazzo la compra l'ho smustata ci ho fatto 40 euro a gratis ma che cazzo me ne spede no ma è questo il fatto cioè quella è roba invendibile o che puoi vendere o su vinted o su ebay sul market non c'è neanche la possibilità no ma poi ho 100 euro ma scusami che costa di più ma 300 c'è inglese nel mint si è questo il fatto cioè a questo punto se ti spendi 115 la spendo 300 non è che dici spendi da 300 ne spendi appunto 40 c'ha senso mentre un'altra cosa su cui non c'ho proprio margine di trattativa sono le robe troppo da collezione nel senso un ragazzo mi ha proposto metamorfosi nm da cp in italiano io gli ho detto guarda te la pago al 60 del minimo italiano non te posso assolutamente offrire un euro di più ma perché so che è invendibile per dirti ne aveva filippo 2 e quella in italiano l'ha dovuta vendere a 20 euro o meno del minimo quella inglese che parte nm a 1000 è riuscito a venderla solo mettendola a 400 questo ti fa capire che il prezzo di mercato non è il prezzo del market tutto qua il prezzo di mercato non è altro quello che il valore di un oggetto è quello che la gente risposta a pagarlo il prezzo non è altro che la fusione di queste due metà il punto è che io sono d'accordo con te la roba troppo da collezione non si vende ma basta vedere il mio drago bianco non diciamo adesso l'espansione qual è ma tu hai capito di qual è il drago bianco parlo l'ho pagata meno rispetto a quanto costa adesso ma quanti anni sono che c'erò lì beh è passato un annetto che non ricordo male ma che un annetto ma che un annetto fai anche due e mezzo due due tutti è questo il fatto perché ce ne sono pochissimi sul market e il prezzo è insensato ce ne sono tre capito e soprattutto e soprattutto intanto io quei soldi li ho spesi sono tanti soldi quelli che ho speso per un singolo pezzo di carta chissà quanto tempo dovrò avercelo ancora lì e soprattutto chissà quanto se dovrò se volessi darla via se decidessi appunto di cedere a compromessi quanto dovrò togliere dal valore dal valore da quello che è il prezzo di vendita attuale che è troppo alto per carità però mi rendo anche conto che è un pezzo veramente difficile da trovare cioè durante il periodo di pandemia le carte da ICS sono salite tutte di prezzo a prezzi insensati giant hand a 5000 euro quella super oppure i dark lord a 1000 l'uno attualmente la giant hand è tornata a 1000 perché ovviamente nessuno ha offerto quelle cifre i dark lord ho visto su gruppi americani che te li lanciano a 300 euro l'uno quindi è un po' questo quando c'hai queste carte dopo il dover valutare devi dire ok o questa è la cifra o tranquillo offrila a qualcun altro vabbè la differenza tra una carta da ICS e la mia è che le carte di ICS sono carte molto recenti che vediamo da giocatori che non potevano rovinarle la mia è una carta che è anche molto difficile da trovare in condizioni quasi perfette come la mia quindi poi si dipende anche dal tipo di prodotto che uno ha sia collezionismo e collezionismo così sono d'accordo comunque bene come sa che anche a sto giro avemo fatto grazie per la compagnia e speriamo di riuscire a fare un altro video insieme o una reaction se tira fuori un'altra mina come le solite oppure un altro episodio del podcast su un altro argomento che riguarda soprattutto i soldi mettiamola così poi volendo penso che i ragazzi sui commenti possono chiederci qualunque cosa penso che noi poi potremmo soddisfare le curiosità se uno ha domande penso possa venire qualcosa di carino sì mi sembra giusto e cosa molto importante ragazzi fateci sapere se volete un video con le richieste più assurde che ci sono state fatte su Car Market guarda posso anche andare fuori market volendo ho delle cose di analisi veramente interessanti avete presente ragazzi quelle cose che leggere su commenti memorabili tipo di chat di subito.it tra persone che dite vabbè sono fatte apposta non possono essere vere certe cose vi assicuro che in realtà esistono dai diamo un assaggio subito e e così sceglieranno loro io direi la storia dell'onesto c'era questo ragazzo greco che aveva un nome molto figo però adesso mi sfugge era tipo Arceus lo chiameremo chiameremo Arceus mentre questo ragazzo era in fumetteria e praticamente cosa succede succede che questo ragazzo qui aveva il suo raccogitore di Yu-Gi-Oh e si dichiarava e ancora non ero venditore avevo il mio album bello pimpato ma niente di che ero un giocatore mi si avvicina era famoso questo Arceus per avere un un album che conteneva solo carte femmina e tu ovviamente che carte ti immagini ragazza maga nera che ne so le fatine guida tour che cazzo ne so cose così non so e lui ovviamente aprivo un album e mi ritrovo di tutto di più i draghi i guerrieri non capivo a detto sua erano carte femmina a un certo punto lui aveva un onesto ghost in prima edizione ed era un NM meno io pure avevo un onesto ghost sempre in prima però era un good più ex meno diciamo a un certo punto lui guarda questo onesto ghost lo guarda bene lo tira fuori dalla bustina guarda come la carta come brilla la nostra lì tutta quella guarda la carta che brilla e mi fa no troppo bello questo onesto questo è un onesto femmina e io non capivo e lui mi fa senti senti ma ti devi fare una domanda però mi devi dire si faccio cosa dimmi ci stai il mio onesto maschio in cambio del tuo onesto femmina io allibito non stavo capendo e la seconda volta che mi propone questa cosa dico vabbè gli sto praticamente mi sta regalando del denaro visto che mi sta dando una carta NM meno per una carta accent meno ci guadagno un grad lui è contento perché ha la sua carta femmina e questo scambio è stato eseguito e lui era molto contento e mi era ringraziato molto perché gli ho dato un onesto femmina che lo cercava da tantissimo bene con questo penso che possiamo chiudere il video guarda io gli avrei chiesto ma scusa qual è la differenza tra il maschio e il femmina ah sì io l'ho anche chiesto aspetta è giustamente una domanda che per me ormai è scontata ma per un pubblico no e lui mi fa e guarda non vedi lo fa vedere lo fa vedere come vedi questo è femmina si vede ah così basta se non diceva anche un dad c'aveva anche un dad secret femmina no secret qual era sì secret era quello da pacchetto originale sì c'avevo un era femmina va bene ragazzi grande chance vi ringrazio di aver seguito questo video ve lo giuro è vera se volete il video dedicato alle incredibili storielle di carmark le storielle fatecelo sapere qua sotto con un commento e soprattutto con un mi piace detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti